Grazie a tutti Tutto è rosa Ci sono anch'io Raga toglietemi una curiosità Allora io da quando sono una persona stanca Cioè nel senso io sono sempre stanca E fino lì Però al di là della vecchiaia Che incombe e quindi Ho bisogno di dormire molto di più Da quando ho fatto il vaccino Credo Di essere proprio molto più Cioè sto cercando di capire da quando Comunque più o meno da quando l'ho fatto Mi sento Più stanca Fate conto che io ho già la pressione bassa di mio Che come vi dicevo sono nata stanca No però cioè Mi capita davvero di dover Aver bisogno di dormire Tantissimo È una cosa che avete riscontrato anche voi? Raga comunque siete meglio di qualsiasi google Cioè io quando ho bisogno di fare Capire qualcosa Lo scrivo e mi rispondete tantissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti